Buongiorno, ben ritrovati. In questo video continuiamo il discorso iniziato un paio di video fa sulla femminilità, la mascolinità e la psicologia differenziale dei sessi, che è il cuore del nostro discorso. Possiamo subito dedurre, da quanto detto precedentemente, che mentre per l'uomo il rapporto sessuale è soltanto uno dei tanti rapporti possibili, per la donna invece la sessualità è una parte di se stessa, una parte del suo essere e quindi un elemento fondamentale della sua esistenza, qualcosa di unico e compatto e non un insieme di atti separati come lo è per l'uomo. Una serie di atti distinti. Bene, ed è appunto per questo che la donna nel rapporto ha bisogno di un altro, ha bisogno però della partecipazione dell'altro, della sua dedizione, non soltanto della sua presenza fisica. Una donna deve essere con un altro. L'attività sessuale vera e propria non riveste tanto un ruolo centrale come per l'uomo. Parlo della parte tecnica, della parte propriamente sessuale. Infatti le donne apprezzano molto l'overture, più dell'intera rappresentazione, il preludio, perché nel preludio nasce l'intimità. Ed ecco allora che la sessualità femminile non si esaurisce nell'atto sessuale, ma pretende la reciprocità. Non si accontenta dei surrogati. L'attività sessuale femminile deve essere esemplare. L'esemplarità è la caratteristica innata della sessualità femminile. Per dirla un po' poeticamente con Rilke, possiamo dire il mio amore deve essere enorme, enorme. Solo allora il coito diventa un'esperienza sconvolgente, attuando la piena realizzazione della femminilità. Dunque a questo punto possiamo dire che l'essenza della sessualità femminile è la stabilità e la permanenza. Una donna, una ragazza, mette tutta se stessa in ogni rapporto, perché una partecipazione parziale, quindi soltanto fisica, sarebbe contraria alla sua natura. In ogni relazione la donna dona all'uomo tutta se stessa. L'uomo invece impara a donare parti sempre maggiori di se stesso. L'uomo, come dire, si avvia verso la maturità. La donna si completa entro la sua propria maturità. In quest'ottica un po' idealistica, diciamo, si capisce perché, ad esempio, la frigidità sia soltanto un sintomo relativo. È qualcosa che si riferisce soltanto ad un dato uomo e quindi può essere letta come un sintomo psicosomatico o nevrotico. Ora, per quanto riguarda gli uomini, il modo migliore per definire il tipo di esistenza mascolina, il tipo di sessualità maschile, consiste nel contrapporlo a quello femminile. Quindi, mentre la donna vive in uno stato naturale, di naturale spontaneità, uno stato di comunione con il mondo, l'uomo comunica con il mondo soltanto per sua deliberata volontà. La donna è con le cose. L'uomo deve mettersi in contatto con le cose. La donna crea, l'uomo produce. Produce la sua esistenza mascolina, che è razionale. Questa esistenza mascolina risulta essere il contrario dell'esistenza femminile, che invece è di tipo magico e si sviluppa attraverso l'esperienza e consiste poi nell'agire. Però iniziamo a dire che la vita, ahimè, è molto più vasta del piccolo campo della ragione e i veri problemi non si possono risolvere con l'aiuto della sola razionalità, che è tipicamente mascolina. E per le donne tutto questo è assiomatico. Infatti, conoscere ed essere sono la stessa cosa. Per gli uomini invece, per gli uomini si tratta di conoscere più sul piano razionale. E per questa ragione gli uomini hanno bisogno di aiuto. L'aiuto deriva dalla realtà. Questo aiuto gli uomini lo ricevono dalle donne, per le quali il programma di vita è sempre pronto, sempre presente nella loro intuizione. Intuizione. Il problema per le donne consiste che questo programma di vita non è presente a livello di coscienza, ma a livello di intuizione, appunto. Non è presente a livello di consapevolezza. La difficoltà per le donne sta nel tradurre questo programma di vita in una sorta di concretezza di pensieri, concretezza di parole. I pensieri sono fatti di parole. E qui siamo in ambito razionale. Questa è la difficoltà per le donne. Le donne possono realizzare un programma di vita soltanto con l'azione concreta. Perché le donne sanno solo in quanto vivono, come abbiamo accennato in un video precedente. E quando vivono impiegano tutta la loro persona. Ecco che possiamo concludere dicendo che l'amore nasce nel momento in cui ci innamoriamo del modo sublime con cui una donna interpreta la realtà in virtù della sua natura femminile, attuando a questo punto proprio quella diversità compensatoria, come avrebbe detto Jung, compensatoria, che è proprio l'essenza del rapporto tra i sessi. Approfondiremo meglio questo discorso nei video successivi. Intanto mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche, consulenze via mail. Per cui se volete richiedermi una consulenza dovete scrivermi un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando il vostro nome, il vostro cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre vi invito a visitare il mio canale youtube dove troverete tantissimi video come questo. Sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. Inoltre ho pubblicato quattro libri che si trovano soltanto su amazon. Uno di questi, eccolo qui, è quello da cui ho tratto questo discorso introduttivo. A presto.